bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xuder e ragazzi oggi siamo su un gioco che come vi ho scritto nel titolo vi farai fare veramente veramente tanto mamma mia questo gioco questo gioco ragazzi uscirà il 6 dicembre non so se avete già visto qualche video su youtube degli youtubers americani che lo già stanno portando si chiama getting over it with bennett foddi e come vedete ragazzi cosa vedi amore mio cosa vedi un piccone esatto perché ragazzi brava conficcato nella pietra perché ragazzi questo gioco e la chiave del gioco è molto molto particolare andiamo a provarlo subito assieme new game così insieme a voi lo provo anch'io per la prima volta eccolo qua bene sono insomma al calderone opla e viene fuori e viene fuori dal calderone ragazzi come vedete ovunque voi spostate il vostro il vostro mouse lui usa il guardalo 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 non riesco a stare tranquillo opla 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 aspetta non è facile noi dobbiamo andare avanti raga l'obiettivo è andare avanti già qua molto molto difficile la cosa vediamo è allora vai tirati su tirati su molto bene opla oi questa è la buona opla questa è la buona è la buona aspetta la capacca porca è che devi essere velocissimo devi essere o bene così bene tirati su bennet tirati su bennet aspetta 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 c'è 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 ma che muscoli che c'è guarda che muscoli tirati su tirati su bene non ce la fa non ce la fa non ce la fa aspetta 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 non lo so forse devo fare opla guardalo qua guarda qua il bennet guarda qua il bennet opla opla mi ero preso bene mi ero preso bene aspetta piano piano bennet devo puntarmi in punta aspetta aspetta non è facile raga non è fa cos'è che sta dicendo no 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 devo capire il bennet come noo brutta situa bruttissima 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 ragazzi è troppo difficile taggati bennet oh ooooo nooo aspetta aspetta ho capito ho capito ho capito aspetta 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 c'ho problemi con bennet c'ho problemi con bennet raga vedete cosa vuol dire non giocare con calma aspetta vai bennet devi far qualcosa di più bennet devi fare piano, piano, piano giù il mouse allora minchia devi tirarti allora aspetta, aspetta bisogna, non andare ma dove va? venet torna di là per favore allora, ok adesso vedi di aspetta, opla, è buona, è buona bisogna spingerci col mouse e mentre ti spingi con il coso, bravo bravo Bennet, bravo ok, l'ha capita, l'ha capita, l'ha capita il Bennet aspetta, aspetta sono calmo, sono molto bene molto bene, ho capito, ho capito ok, ok, non si cade, non si cade ah, lui, lui salva lui salva ogni volta era messo bene, era messo bene, ragazzi siamo è difficilissimo, è difficilissimo aspetta, allora Bennet fermati fermati Bennet ok, viene così questo era buono questo era buono aspetta, aspetta aspetta, che noi dobbiamo cercare col mouse di andare sopra nella roccia allora, aspetta lo doveva prendere c'è un remo c'è un remo ma Bennet sei veramente un idiota allora, attaccati al remo attaccati al remo attaccati al remo è difficilissimo allora, ok allora, piano, piano, piano e c'era buona, era buona aspetta, però bisogna riuscire a tirarsi vai di là, Bennet vai di là, Bennet ok ok, aspetta, aspetta allora, noi siamo qua noi siamo qua allora, Bennet tirati su adesso ti voglio vedere a te a giocare a questo gioco e non ci facciamo mai no, no ero sopra il coso ero sopra il coso allora, ho capito com'è non riesco con la calma non è facile Bennet sei un Bennet aspetta, aspetta lasciati Bennet lasciati Bennet lasciati aspetta allora, ok piano, piano, piano era buono quello di prima era buono quello di prima aspetta c'ho il Bennet c'ho il Bennet abbastanza incastra oh 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 allora, piano, piano ok oh cacchio era quasi giusta era quasi giusta fermati Bennet era buono, era buona aspetta, aspetta allora indietro di qua indietro di qua no, di qua, di qua ok ok è su di oh oh uuuh 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 ma non è facile prendere perché se tu lo fai dall'asta della reno e lo so che devo prenderlo in punta ma non è facile e se io salgo qua cioè tu dici allora guarda io posso spostarlo di qua io posso salgo comacca porca aspetta 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 allora salvo di qua si può anche tirare su quindi non è noto iiii ma non ce la fai eh sì che ce la fai ma devi accogliare in punta e darci la finita su dici non puoi stare tranquillo perché se no non fai capire niente no è che ma non puoi stare troppo tranquillo eh sì non hai un tempo aspetta 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 che questo non è facile mollati Bennett mollati mollati Bennett piano piano Bennett che problemi hai a tirarti su ok ok molto bene ok molto bene molto bene fermo Bennett fermo me l'hai mandata però me l'hai mandata allora aspetta 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 il Bennett allora e lo so che non è facile lo so che non è facile nessuno dice nessuno dicesse nessuno ha detto che è facile nessuno ha detto che è facile quindi ancora un attimo ragazzi ancora due minuti e io voglio vedervi a voi a giocare a questo voglio vedervi a voi a giocare a get in clip clover come si chiama aspetta allora porca allora piano proviamo provaci te provaci te provaci te vuoi vedere la pavina ragazzi vuoi vedere la pavina no non devi schiacciare non devi schiacciare ogni volta che tu appoggi il martello fa una direzione no brava adesso ce la fa uuu subito il grande rischio subito il grande rischio c'è quasi riuscita c'è quasi riuscita ok dai zio dai quasi 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 attenzione a pavina anche lei un po' in difficoltà un po' in difficoltà riesce no ma ragazzi poi io sono scomoda poi cos'è sto punta non è facile non è facile eh attenzione col martellone attenzione col martellone uuuu e si ributta indietro di là e si ributta indietro di là ragazzi io voglio vedervi a giocare a getting over it voglio vedervi cercate su youtube come tirarlo giù ragazzi perché non è ancora disponibile su steam cercate su youtube come tirarlo giù attenzione la pavina uuuu non ce la fa è troppo scomodo giocare con il però è allora aspetta che ci riproviamo aspetta che ci riproviamo vai 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 uuuu hai quasi preso il remo hai quasi preso il remo brava brava devi essere molto più veloce a girarlo è tutto un gioco di velocità eh no non devi girare la testa allora guarda ti tiri su ma io sto scomoda poi che gioco è col martellone brutta cosa ti tiri su ok Bennett ok Bennett ok Bennett tirati su no tirati su Bennett no riesco a non urlare col Bennett aspetta tirati su Bennett vado piano piano dall'altra parte dall'altra parte no no aspetta 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 è troppo difficile è troppo difficile ragazzi riuscire ma porca di quella oh se riesco allora Bennett benet che problemi hai aspetta perché devi giocare tranquillo quando sali ho capito ma se saldi tranquillo cadi e questo è il problema no mi arrivi a un punto stabile ti fermi e poi riprendi allora aspetta aspetta è inutile che fai come se te che sali e poi ti butti giù ma non è che mi butto giù perché voglio buttarmi giù aspetta 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 fammi salire che poi sono ultimi ragazzi fammi salire vai Bennett vai Bennett porca va no che non ti si brucia non ti subisci la verdura ci sono eh ci sono ci sono Bennett Bennett ti prego fai qualcosa di più Bennett come c'è l'acqua ah si è vero ah diventare su Bennett ok ragazzi ok con il nostro Bennett sopra qua direi che per questo primo video ci possiamo fermare vedrò un attimino diteci se vi piace più o meno cosa ne pensate di questo gioco getting over it si chiama mi raccomando anche di lasciare un bel like se vi sta piacendo il video e di iscrivervi al canale sempre e di attivare la campanella come al solito per ricevere tutte le notifiche esatto ragazzi io spero che vi siate divertiti anche oggi noi ci vediamo presto ciao ciao